Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca ancora momenti di tensione in zona Campodimarte dove ieri mattina alle 9.30 è intervenuta la polizia municipale dopo la segnalazione di alcuni passanti. Uno scontro ma all'arrivo degli agenti due litiganti hanno tentato la fuga ma sono stati raggiunti. Il primo nel piazzale della farmacia, un trentenne originario della Nigeria irregolare in Italia per il quale sono state avviate le procedure per il rimpatrio. Il secondo invece è stato bloccato in collaborazione con gli agenti della Polfer nella zona della stazione. Si tratta della ventenne egiziana, un protagonista dell'intemperanza all'alba della scorsa domenica, già colpito dal divieto di dimora nel comune di Arezzo. Non avendo rispettato la prescrizione si va dunque verso l'aggravamento della misura cautelare. E c'è stato un nuovo incidente lungo il tratto valdarnese della 1. Questo pomeriggio attorno alle 15 un'auto e un camion sono rimasti coinvolti nell'impatto nella tratto appunto tra Arezzo e Valdarno in direzione nord. Un uomo di 65 anni è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari. Il 65enne è stato portato in codice giallo alla gruccia. Sul posto anche i vigili del fuoco e forze dell'ordine nel tratto si sono formati 7 chilometri di coda. Un altro incidente invece è lungo la strada regionale 71 all'altezza di Sitorni questa mattina. Uno scontro che ha visto coinvolte un'auto e una moto. Un 25enne ha riportato alcuni traumi ed è stato trasportato in codice 2 all'ospedale San Donato. Sul posto i sanitari dell'emergenza urgenza e le forze dell'ordine. E adesso voltiamo pagina per tornare a parlare dell'inchiesta Cheu. Il Comitato Vittime di Podere Rota adesso chiede i dati del registro tumori del Valdarno. Il Comitato delle Vittime di Podere Rota ha chiesto nero su bianco chiarimenti in merito ai rischi per la salute delle persone esposte al Cheu. È stata infatti inviata alle autorità competenti della regione, ASL, ARPAT e ISPRO, una richiesta ufficiale di elaborazione dati del registro dei tumori del Valdarno, di monitoraggio epidemiologico e studi di valutazione sull'incidenza di leucemie ed altre malattie potenzialmente correlate al materiale denominato appunto Cheu e i singoli siti di spandimento. Alla richiesta, fa sapere il Comitato, si aggiunge un sollecito a tutte le istituzioni che hanno il potere di intervenire affinché venga tutelata la salute dei cittadini del Valdarno e soprattutto quelli più prossimi al sito di Podere Rota. Poi il Comitato sottolinea la volontà di essere parte in causa al processo. Abbiamo presentato la richiesta di costituzione di parte civile nel processo per ricercare giustizia e verità, ne abbiamo i requisiti ma se non fosse accolta continueremo ad essere elemento fondamentale di controllo e denuncia di eventuali abusi o irregolarità che possano mettere a rischio la salute dell'ambiente e dei cittadini. La prossima udienza del processo è stata fissata per il 7 giugno. In quella data il giudice dovrà decidere sulle richieste di costituzione di parte civile, oltre 60 quelle già presentate, tra cui Regione Toscana, numerosi comuni, associazioni ambientaliste ma anche gruppi o singoli cittadini. Torniamo adesso a parlare di sicurezza tra i commercianti a retini. Secondo uno studio di Comfcommercio Toscana, il senso di sicurezza vacilla. Furti, rapine ma anche atti vandalici, Arezzo è il terzo posto nella classifica delle province toscane in cui gli imprenditori si sentono più esposti al pericolo di fenomeni criminosi. È quanto emerge dall'indagine commissionata da Comfcommercio Toscana Format Research per monitorare il sentiment delle imprese del terziario sulla questione sicurezza. Dati che sono stati diffusi durante la giornata Legalità Ci piace, ideata da Comfcommercio. In generale, in tutta la regione, è allerta alta contro la criminalità. Ad Arezzo, il 76% degli intervistati dice di sentirsi molto o abbastanza esposto, più preoccupati dagli aretini per mezzo punto percentuale, livornesi e fiorentini. Va meglio invece nella percezione di sicurezza del territorio. In provincia di Arezzo, solo il 16,3% degli operatori di commercio, turismo e servizi si sente poco o nulla sicuro, a fronte di una media regionale del 30,1%, meglio di Arezzo, solo Siena. In provincia di Prato, invece, il 55% degli intervistati si dichiara poco o per nulla sicuro. Tra le cause che alimentano il problema della criminalità, secondo gli operatori toscani del terziario, ci sono in particolare la mancanza di certezza della pena, la situazione economica difficile e la scarsa presenza delle forze dell'ordine. Proprio su quest'ultimo tema, ovviamente, a livello di percezione degli imprenditori, più di uno su due si dichiara insoddisfatto, ritenendo inadeguato o insufficiente il presidio delle forze dell'ordine sul territorio. Ancora sicurezza, ma in questo caso sul lavoro, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno lancia infatti la prima giornata antirischio. È una giornata che fa ricordare tutte quali sono le problematiche nella sicurezza del lavoro, nei cantieri, specialmente nei posti disagiati come i fiumi montani. È sempre bene fare un ripasso perché non ha né l'arto, uno tende anche a scordarsi, però le cose principali bisogna sempre ricordarsene sempre, perché qualche volta sono proprio le piccole cose che fanno la differenza. In un anno che si profila nero per il numero di morti bianche e di infortuni ed incidenti sul lavoro, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha introdotto la prima giornata antirischio e lo ha fatto all'interno della settimana della Bonifica. Oggi l'attenzione è sulla sicurezza dei lavoratori, sia i nostri dipendenti ma anche le tante titte, tanti collaboratori che lavorano con il Consorzio di Bonifica. E sicurezza è sicuramente una parola d'ordine perché tutti i nostri lavori sono improntati a garantire la sicurezza idraulica dei territori. E oggi dai territori spostiamo l'attenzione ai lavoratori. Una giornata che si aggiunge alla formazione obbligatoria per responsabilizzare e coinvolgere il personale tecnico ed approfondire le conoscenze acquisite con il supporto di un'esperta. In particolare l'attenzione è stata data a quelli che sono i dispositivi di protezione individuale, che sono stati accorosamente scelti sia in base alle norme ma sia in base anche all'esigenza del lavoratore. L'iniziativa ha anche testato sul campo la preparazione degli operatori divisi in due simboliche squadre, motosega e decespugliatore. Sicuramente tutto quello che deve essere saputo da parte del lavoratore, da parte degli operai nei cantieri, queste persone lo sanno. Evidentemente anche i percorsi formativi fatti in precedenza hanno colto l'obiettivo e i lavoratori hanno colto l'importanza di conoscere questi comportamenti, questo è l'uso di dotazione di sicurezza, come stanno nel cantiere per prevenire eventuali, mi auguro mai, ma in ogni caso incidenti che possono sempre accadere. Cornice dell'iniziativa la Mesopotamia di Talla, ovvero il giardino pubblico comunale che si sviluppa tra i torrenti Talla e Lavanzone. Per noi è l'occasione anche per ringraziare il Consorzio per l'attività che svolge durante l'anno, con una pulizia che appunto abbiamo concordato essere adesso annuale, quindi questo per noi è anche una risposta importante in termini di decoro e di gestione proprio del centro urbano, a cui teniamo particolarmente, quindi anche grazie alla collaborazione del Consorzio riusciamo a farlo. Torniamo a parlare invece adesso di verde urbano, secondo un'analisi di Coldiretti, Arezzo è la città più verde della Toscana. La battaglia dei residenti del quartiere di Saione per salvare gli alberi della piazza, che assicurano un luogo di ritrovo in socialità, ma anche il refrigerio ed ombra, era stata vinta solamente qualche giorno fa, scongiurando così l'abbattimento di 11 piante, una vittoria che segue l'equazione salvacittà lanciata da Coldiretti Toscana, più alberi, più verde, meno cemento. L'associazione infatti ha elaborato i dati istata sul verde urbano e dall'analisi emergono dati incoraggianti. Arezzo infatti si conferma la città con il rapporto alberi residenti tra i più alti in tutta Italia e il maggiore della Toscana, con 42 piante ogni 100 cittadini, seguita al secondo posto da Siena e al terzo da Massa, poi Grosseto, Pisa, Firenze, Prato, Livorno, Pistoia e Lucca. I numeri evidenziano un cambio di rotta comunque in tutte le città a capoluogo, dove negli ultimi anni è cresciuto il rapporto alberi-cittadini. Siamo a 20,8 ogni 100 abitanti a dispetto dei 19,9 di un anno prima, così come il verde urbano a disposizione, 24,6 metri quadrati a testa rispetto ai 23,3 di 5 anni fa. Una tendenza positiva che trova riscontro nella creazione di nuove arie verdi, anche se il dato medio nazionale è ancora molto distante, 32,8 per abitante. Cresce però contestualmente anche il suolo consumato per realizzare nuove costruzioni, capannoni e strade, più 4.400 ettari in 15 anni. È partita questa mattina a Rondine in Cammino per la Pace, una serpentone di giovani in arrivo da tutta Italia, protagonisti della marcia che ha portato al colle della cittadella, dando così avvio alla tre giorni di festival. In Marcia per la Pace, da Arezzo a Rondine, in migliaia tra studenti arrivati da tutta Italia, i cittadini si sono mossi a piedi per raggiungere il borgo, dove è nato un metodo per superare i conflitti. Che si può fare ognuno un passo. Quindi questo cammino da Arezzo a Rondine segna la volontà di non stare fermi, disorientati, impauriti, ma compiere qualcosa di possibile. E questo è l'abbraccio ai giovani coraggiosi di Rondine, che hanno la guerra a casa e le hanno nel cuore e che tolgono ogni giorno il veleno dell'inimicizia per riconoscersi umani, riconoscersi fratelli, sorelle. I ragazzi attraversano Ponte Buriano e gridano il no alla guerra. No alla guerra, no alla guerra, no alla guerra, no alla guerra! La marcia è stata la prima iniziativa della tre giorni di Utopic Fest, che porterà a Rondine personaggi come Piff e Claudio Bisio, intanto il taglio del nastro delle nuove strutture dell'arena di Janine, la giovane internata ad Auschwitz assieme a Liliana Segre, la senatrice a vita, che ha affidato ad un video il suo messaggio. Io vi ringrazio carissimi ragazzi che avete scelto a Rondine di portare avanti la vostra libertà non parlando mai né di odio né indifferenza. Vi ringrazio e spero che questa esperienza vi dia quella forza e quella consapevolezza nella vostra vita che vi sarà indispensabile. Presente a Rondine il figlio della Segre, Alberto Belli Pace. Quali sono gli ostacoli oggi per la pace? Gli ostacoli oggi per la pace sono la totale mancanza di dialogo. Le persone devono parlare tra di loro, devono confrontarsi, misurarsi, aprirsi e disarmarsi. Questo è quello che si impara a Rondine. Per fare della relazione il punto di partenza, per condurre poi verso una cultura di pace. Secondo me quello che conta più di tutto nel nostro mondo attuale è innanzitutto l'informazione che deve essere il più possibile neutrale. Non mai di parte, dovrebbe essere così. E le informazioni e i media secondo me hanno un'importanza nell'ambito non di Rondine ma nell'ambito della nostra vita sociale basilare perché possono presentare la realtà in diversi modi. Se invece, come si insegna a Rondine, si cerca di trovare un modo per, ripeto, creare la relazione, accettare e accogliere la relazione, quindi basarsi sulla cultura, sul sapere, sull'apprendere che cosa sono gli altri e in più accettare che l'altro abbia il suo dolore perché il dolore non ce l'ho solo io, ce l'ha anche l'altro. Ognuno ha il suo dolore, se si riesce a creare una relazione tra i dolori, si riesce a creare un dialogo. Presentati nella sala consigliare di Civitella in Valdichiana, gli artisti di fama mondiale che parteciperanno al simposio internazionale di scultura monumentale in corso fino al 15 giugno nell'ambito dell'ottantesimo anniversario dell'ecidio nazifascista del 29 giugno 1944. Il simposio vede la partecipazione di 10 artisti internazionali e prevede la realizzazione di altrettante sculture che poi saranno installate nelle principali piazze delle frazioni del territorio comunale per ricordare le vittime dell'ecidio. Sono stati invece nominati amici dei nonni a conclusione dell'incontro fra gli stessi scout e gli ospiti dell'RSA comunale di Cortona. Un incontro lo scorso sabato nel giardino della struttura Camilla Sernini. Gli ospiti e ragazzi del gruppo Gesci di Cortona si sono intrattenuti in attività ludiche con giochi di una volta realizzati dagli anziani con materiali riciclati. Il tutto si è concluso con una merenda organizzata dagli scout e la consegna da parte degli ospiti e ragazzi invece del Gaiardetto. Questo fine settimana ad Arezzo invece torna la Fiera dell'Antiquariato che è pronta a festeggiare i suoi primi 56 anni. La Fiera Antiquaria spegne 56 candeline e festeggia l'importante traguardo con un'edizione speciale. Sabato primo e domenica 2 giugno ad Arezzo si rinnova l'appuntamento con la manifestazione che dal 1968, ininterrottamente, ogni mese in Piazza Grande nelle vie del centro storico cittadino regala ad appassionati e addetti ai lavori il piacere della Truvai grazie a centinaia di espositori impegnati a proporre i loro oggetti d'arte mobili, gioielli, libri e ogni tipo di collezionismo. Per celebrare un compleanno così importante la Fondazione Arezzo in Tura ha organizzato e coordinato alcuni appuntamenti collaterali. Nel chiostro della Biblioteca è il Refugio del Tempo, mostra collettiva di opere contemporanee realizzate dagli artisti dell'Associazione Culturale e Artefice, quest'anno dedicate a Giorgio Vasari. Nelle due giornate della Fiera Antiquaria si rinnova anche la terza edizione di Mosaic Art che vede protagonista l'arte del mosaico. In una festa che si rispetti poi non può mancare la musica. Nel pomeriggio di sabato primo giugno, a partire dalle 16.30, nella piazzetta San Michele si esibirà l'orchestra a plettro Città di Arezzo, quindi il palcoscenico passerà l'assemblea corale Angel Pop Core. Ma il pubblico della Fiera potrà anche ammirare e sperimentare la musica grazie a naturalmente pianoforte Ben Città. In via Bicchieraia 50 pianoforti colorati e condivisi, un'antecipazione del raffinatissimo festival che dal 17 al 21 luglio tornerà ad animare il borgo di Prato Vecchio. Infine, il primo e il 2 giugno ad Arezzo si rinnovano i Dandy Days, il singolare raduno italiano dei maestri di stile con uno scopo benefico. I fondi raccolti saranno donati all'istituto cittadino Casa Tevenin. Continua l'apertura, nelle domeniche della Fiera Antiquaria, del Museo di Porta Sant'Andrea in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour che ha inserito l'apertura tra gli eventi collaterali della stessa fiera. La prossima apertura, dunque, è in calendario domenica 2 giugno con l'orario al mattino dalle 10 alle 12 e 30 e il pomeriggio dalle 15 alle 18 e 30. I visitatori potranno accedere dalla Corte del Museo in via Garibaldi 15. L'ingresso è gratuito. E sempre in città, domenica 2 giugno, dalle 16 alle 18, al Parco di Villa Severi torna l'iniziativa alla scoperta dei parchi cittadini in sella Dumponi, organizzata dalla Scuderia Pancoli, il patrocinio e il contributo del Comune di Arezzo, il patrocinio del CONI e del Comitato FISE Toscana. Il progetto dà la possibilità a bambini e ragazzi, compresi quelli con disabilità, di scoprire il verde dei parchi cittadini in sella Dumponi, insomma una sorta di battesimo della sella accompagnati da istruttori qualificati FISE. E adesso la pagina dello sport. Dopo le indiscrezioni, adesso l'ufficialità. Emanuele Troise è il nuovo allenatore dell'Arezzo. A comunicarlo la società Amaranto e la presentazione in programma per lunedì prossimo alle 11 allo stadio. Troise ha firmato un accontratto di due anni ed è il settimo allenatore dell'era maga New Energy. Per quanto riguarda il calcio femminile, sta invece ufficializzata stamani la filiazione tra l'Unione Sportiva Castiglionese e la società sportiva Arezzo. La volontà, si legge nel comunicato della società Amaranto, è quella di creare una rete solida nel territorio che ci permetta di collaborare con le realtà locali per garantire una formazione professionale a tutti i ragazzi. Essere sotto l'osservazione di una squadra professionistica è fondamentale per i giovani calciatori che non solo vengono tutelati negli spostamenti, riducendo loro i chilometri da percorrere per potersi allenare, dandogli modo di crescere, formarsi e di rimanere sotto lo sguardo attento dei tecnici Amaranto. E si allunga invece a Castiglion Fiorentino il palmarès dei campioni. L'ultimo in ordine di tempo è Alessandro Pantini che domenica a Roma si è aggiudicato la vittoria del campionato nazionale di boxing EPS. Dopo due round agguerritissimi, i giudici hanno degretato la vittoria del giovane castiglionese per come aveva gestito l'incontro e per non essere mai stato sovraffatto dall'avversario. Il tempo di riposo è comunque ancora lontano perché la prossima competizione è in programma per il prossimo 8 giugno a Capolona. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.